E ieri in piazza San Pietro Papa Francesco ha canonizzato San Islao di Gesù Maria e Maria Elisabetta Esserblad. Per il Papa sono due testimoni del mistero di risurrezione. Sentiamo. Gesù chiede per sé la nostra morte per liberarci e ridarci la vita. Così Papa Francesco nella messa celebrata ieri domenica 5 giugno in piazza San Pietro per la canonizzazione del beato polacco San Islao di Gesù Maria, fondatore dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e della Beata Svedese Maria Elisabetta Esserblad, fondatrice dell'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida. E' entrato in processione Papa Francesco nella piazza affollata dai fedeli ad accompagnarlo all'altare 40 cardinali. Ispirato dal Vangelo Domenicale, Francesco si è soffermato sull'evento centrale della fede, la vittoria di Dio sul dolore e sulla morte. Nella passione di Cristo c'è la risposta di Dio al grido angosciato e a volte indignato. Che l'esperienza del dolore e della morte suscita in noi. Si tratta di non scappare dalla croce, dice Papa Francesco, ma di rimanere lì, come fece la Vergine Madre, che soffrendo insieme a Gesù ricevette la grazia di sperare contro ogni speranza. Nei nuovi santi si è manifestata la potenza della risurrezione di Gesù. E questa è stata, ha sottolineato il Papa, anche l'esperienza di Stanislao di Gesù Maria e di Maria Elisabetta Esserblad, proclamati santi. Sono rimasti intimamente uniti alla passione di Gesù e in loro si è manifestata la potenza della risurrezione. Gesù prende su di noi i nostri peccati e ci restituisce vivi alla Chiesa, richiamando le letture del giorno su due prodigiose risurrezioni di giovani figli di donne vedove. Il Papa poi ha spiegato, Gesù chiede per sé la nostra morte per liberarci e ridarci la vita. Anche con i peccatori, ad uno ad uno, Gesù non cessa di far risplendere la vittoria della grazia che dà vita. Dice alla Madre Chiesa, dammi i tuoi figli che siamo tutti noi. Egli prende su di sé i nostri peccati, li toglie e ci restituisce vivi alla Chiesa stessa. E questo avviene in modo speciale durante questo Anno Santo della Misericordia. La Chiesa oggi ci mostra due suoi figli che sono testimoni esemplari di questo mistero di risurrezione.